Il mio più cordiale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia, la trasmissione di approfondimento dei fatti che riguardano la Sicilia e non soltanto e oggi approfondendo alcuni dei temi che il nostro giornale tratta quotidianamente parliamo di sanità e lo facciamo con l'ingegner Vincenzo Spera che è il commissario straordinario dell'ASP di Trapani. Buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Con lui chiaramente cominciamo partendo da quello che è il grande tema della sanità di questi giorni. In realtà è un tema che per la sanità è sempre stato molto importante, molto presente, è un tema che riguarda moltissimo i cittadini ed è quello delle liste d'attesa. Liste d'attesa che faccio io una breve introduzione sul tema, hanno avuto chiaramente un incremento nei tempi di attesa dovuto nel periodo del Covid dal blocco di tutto quello che sono state le attività differibili, anche se non sempre potremmo definirle così, però così è stato secondo quelle che erano le esigenze di quel periodo. Poi alla ripartenza, ormai è passato del tempo alla ripartenza, si è dovuto recuperare tanto e non sempre si è riuscito a farlo opportunamente, almeno questi sono i dati che ci consegnano alcune strutture, altre più, altre meno. Allora, partiamo da qui per chiedere a Vincenzo Spera qual è la situazione attuale dell'ASP di Trapani prima di cominciare a parlare di quelle che possono essere le soluzioni. La situazione attuale non è una situazione drammatica per niente. Abbiamo lavorato in questione. E già questa è una notizia, il fatto che non sia una situazione drammatica, già questa è una notizia, perché, mi permetto di interrompere, abbiamo raccontato nei giorni scorsi che ci sono strutture, non stiamo parlando chiaramente dell'ASP di Trapani in generale in Sicilia, dove addirittura per un intervento o per un esame clinico ci si trova ad aspettare anche un anno e mezzo. Prego. Noi abbiamo lavorato in questo anno e mezzo a Trapani cercando di porre rimedio a quelle che erano i ritardi dovuti soprattutto all'emergenza Covid che ha praticamente bloccato l'attività sanitaria e che quindi avevamo accumulato grandi numeri sui quali abbiamo cercato di lavorare per tempo cercando di programmare quella che era l'attività che quotidianamente svolgono i nostri professionisti, sia gli specialisti ambulatori da un lato che i nostri medici che sono all'interno degli ospedali proprio per dare risposte ai cittadini della provincia di Trapani. Lo abbiamo fatto con grande spirito di partecipazione perché quello che mancava un po' quando sono arrivato a Trapani era un po' di motivazione. Ora abbiamo cercato tutta la direzione strategica, io per primo, di incontrare tutti i nostri sanitari girando per i vari presidi e distretti e cercando di dare loro quell'aiuto per dire noi ci siamo, siamo a fianco a voi e risolviamo insieme a voi i problemi. E questo è stato colto in pieno da parte dei professionisti e su questo i numeri hanno cominciato a dare un'inversione di tendenza grossa, ne dico uno per tutti, avevamo a fine del 2022 37.560 esami da dover erogare. Che non sono pochi, anche in soluzione a quella che è la provincia e quindi l'utenza a cui fa riferimento. Ad oggi ne abbiamo 1.609, questo è il numero del quale stiamo parlando, quindi al 31 dicembre del 2022 abbiamo solo 1.609 esami da recuperare, recupereremo ovviamente nel prossimo mese e mezzo, che significa che abbatteremo totalmente liste d'attesa. L'abbiamo fatto con questo grande spirito di collaborazione che i nostri professionisti, tutti, dai medici e gli infermieri e gli osse, hanno voluto mettere indipendentemente dal piano che è stato poi in aiuto avvarato dal Presidente della Regione, con il quale volevamo abbattere liste d'attesa e abbiamo anche sfruttato questo ultimo elemento proprio per dare questa spinta finale, proprio per andare verso quello che è il nostro obiettivo che è quello di erogare le prestazioni secondo i tempi che sono legati alla prestazione che è all'interno della ricetta bianca che viene presentata. Infatti questa era la domanda che io stavo per porre, in un mese e mezzo circa, diciamo due mesi, vogliamo essere larghi, ci sarà un ritorno alla normalità secondo questi numeri e allora nella provincia di Trapani chi viene a chiedere un esame quanto aspetterà fra due mesi? Secondo le priorità potremmo erogare, se è possibile tutto, secondo quelle che sono le priorità già date direttamente negli indici priorità della ricetta bianca. Quindi entro un mese per l'urgenza? Urgenza non è entro un mese, ma è entro le 24-48 ore massimo, l'urgenza è breve entro 10 giorni e poi invece la programmabile è entro 60 giorni o 90 giorni. Quindi queste saranno le prestazioni? Queste saranno le indicazioni che entro fine anno potremmo raggiungere, su questo stiamo lavorando moltissimo proprio per dare questa grande nuovità all'erogazione delle prestazioni sanitarie all'interno della provincia di Trapani. In un anno e mezzo quindi recuperati, diciamo 35 mila, se faccio un sommario. Per la soppezza vi do i numeri, che sono 28.358 sono state le prestazioni che abbiamo erogato, 7.560 sono coloro i quali avevano prenotato ma non si sono presentati alle visite e 6.176 sono invece le persone che hanno disdettato le visite, per un motivo che ovviamente a noi non è conosciuto. Non è chiaro, però è ipotizzabile che alcuni di quelli che non si sono presentati o che erano disdettati abbiano risolto diversamente, possibilmente. A questi che sono i numeri, che sono quelli delle prestazioni ambulatoriali, aggiungiamo invece quelli degli esami chirurgici, le prestazioni chirurgiche delle proprie. Noi abbiamo lavorato moltissimo in questo anno e mezzo. Abbiamo solo 450 esami da dover recuperare, già abbiamo indicato le slotte con i nostri chirurghi su tutti i cinque presidi ospedalieri che insistono sulla provincia di Trapani, tolta ovviamente l'ospedale di Pantelleria e in più abbiamo attivato due nuove sale operatorie su Salemi. Era un ospedale che quando sono arrivati era totalmente chiuso, c'erano solo piccole prestazioni di riabilitazione, un hospice, poi per il resto non c'era nient'altro. Però girando l'ospedale mi sono accorto che c'erano due sale operatorie inutilizzate, nuovissime peraltro. L'idea è stata quella di concentrare lì tutti i piccoli interventi della provincia e abbattere proprio le liste d'attesa, soprattutto per i piccoli interventi che avevano attese che erano ormai diventate, che superavano l'anno. Sì, infatti è quello, il problema forse peggiore in generale in Sicilia, quello dell'attesa per gli esami, o meglio, gli interventi chirurgici programmati. Noi dal 20 marzo ad oggi abbiamo fatto già 800 interventi chirurgici, sono tutti eserogati in dei sargeri, questo significa che tutti i grandi ospedali, gli ospedali più grossi, si occupano solo ed esclusivamente della chirurgia pesante e tutto il resto viene smistato direttamente a Salemi, dove le due sale operatorie, tra la chirurgia tradizionale, la chirurgia plastica e le chirurgie minori, stanno già abbattendo. Torna a ripetere, abbiamo superato già gli 800 interventi chirurgici dal 20 marzo, è già un numero davvero importante. E allora, la domanda è questa, all'inizio lei ci ha detto, abbiamo incontrato i nostri professionisti, li abbiamo motivati in buona sostanza, ma io non posso credere che sia sufficiente soltanto l'elemento motivazionale, deve esserci qualcos'altro, perché Trapani ci riesce e altrove no? Noi abbiamo avuto pure un'altra fortuna, e la reputo come Italia. Lo so che è la posta in una maniera che è pericolosa, perché poi magari si arrabbiano gli altri. No, no, non si deve arrabbiare nessuno, ma abbiamo fatto un piano assunzionale importante, quindi non abbiamo lesinato risorse dal punto di vista economico, sia sulla parte del personale, sia sulla parte delle tecnologie. Quindi è questo il segreto, le risorse. Gli abbiamo messo a disposizione tutto quello che volevano, purché avessimo un obiettivo, che era quello dell'abbattimento delle liste d'attesa. E l'abbiamo fatto di concerto con loro, stabilendo le date, le modalità. Avevamo grossi problemi, per esempio, sull'erogazione delle prestazioni radiologiche. Tac, risonanze, ecografie e mammografie erano numeri importanti che c'erano all'interno della provincia di Trapani. Analizzando, abbiamo fatto analisi di sistema, e insieme al Dipartimento dei Servizi, a cui afferiscono tutte le radiologie, tutti i presidi ospedalieri e dei poliambulatori, abbiamo verificato che c'erano fasce di orari nei quali avevamo i radiologi presenti, ma non lavoravano più di tanto. E allora, proprio su quello, abbiamo calendarizzato tutte le prestazioni. Però questa è abbastanza grave, mi permette? Purtroppo era una situazione diffusa, ma non è diffusa solo a Trapani, ma dappertutto. Io vi posso dire invece che già sono sei mesi, nei quali le nostre radiologie stanno lavorando a pieno regime, anche di sera. Di solito non si fa, ma noi lavoriamo anche di sera. Abbiamo un accesso diretto, non passano da cupi i nostri pazienti, ma direttamente vanno in radiologia, vengono accettati, si fa l'accettazione, pagano il ticket, dove c'è da pagare il ticket, direttamente in radiologia, se si tratta di moneta elettronica. E dopodiché la prestazione viene erogata immediatamente. Questa ci ha dato la possibilità di abbattere completamente le liste d'attesa sulla radiologia. Noi per la risonanza magnetica, più di 15 giorni, non aspettiamo più in provincia di Trapani. Questo perché? Perché abbiamo messo a disposizione dai nostri professionisti anche le incentivazioni, tutto quello che era necessario per poter raggiungere questo obiettivo. E perché, insieme al privato da un lato, ai quali chiediamo collaborazione sì, ma abbiamo dimostrato che noi abbiamo grandi margini di manovra, grandi spazi di recupero, nei quali ancora si possono ottimizzare quelle che sono le prestazioni del pubblico. E' così come abbiamo fatto per i laboratori di analisi. Vi posso dire che avevamo grosse difficoltà, che abbiamo affrontato in tutta la Sicilia, soprattutto quando ci sono state le serrate dei privati, che non hanno più erogato per alcuni giorni prestazioni, soprattutto per i laboratori di analisi, così come per la parte radiologica, così come per tante altre prestazioni. Quei giorni sono stati per noi emblematici. Abbiamo capito che dovevamo studiare qualcosa che desse la possibilità al pubblico di dare la giusta risposta ai cittadini, anche nel caso in cui i privati non ci siano. E su questo abbiamo aumentato, praticamente triplicato la nostra produzione sui laboratori di analisi, perché avevamo macchinari che erano in grado di poter processare il triplo di quello che facevamo prima. Abbiamo raddoppiato i punti di prelievo. Abbiamo aperto i nostri laboratori di analisi su tutti i presidi ospedali alle 7 del mattino, con la possibilità quindi che per chi lavora poteva venire direttamente alle 7 del mattino senza perdere la giornata lavorativa. Fare la sua accettazione, fare il breve e andare via. Nel pomeriggio ricevono l'esito degli esami ematochimici. Questa è stata una delle carte con le quali abbiamo dato una risposta seria a tutta la popolazione della provincia di Trapani. Quindi quando si vuole si può fare? Quando si vuole si può fare, assolutamente sì. Ci vuole però partecipazione, ci vuole creare squadra, gruppo. Non si fa nulla da soli. Noi abbiamo motivato i nostri, facendogli capire l'importanza strategica e la nobiltà di quello che facciamo tutti i giorni, perché noi eroghiamo sanità. E quindi è un'azione di grande nobiltà nei confronti ai nostri cittadini, quella di erogarla nel miglior modo possibile. Ed è questo quello che stiamo facendo in questo momento, così come abbiamo aperto, per esempio, a Castelvetrano, l'emodinamica. Avevamo liste d'attesa lunghe in emodinamica. Vi devo dire la verità, avevamo una mobilità passiva fuori regione, soprattutto fuori provincia, verso Sciacca o Palermo, che era piuttosto grossa. Con l'apertura dell'emodinamica già abbiamo superato le 200 procedure, il che significa che non solo abbiamo annullato tutte le nostre liste d'attesa, ma stiamo cominciando a diventare attrattivi da parte delle province vicine, perché noi eroghiamo la prestazione massima in una settimana. Quindi se dobbiamo fare una coronarografia o un'angioplastica programmata, quindi non in emergenza, allora in quel caso, nell'ambito, nell'arco di massimo, una settimana, noi eroghiamo la prestazione. Ed ecco che succede un'altra cosa. Da una parte si sono fatti degli investimenti perché si sono messe in campo delle risorse, ma dall'altra parte la mobilità che ritorna è invece un investimento al contrario, cioè è un ritorno economico anche per l'azienda sanitaria. Assolutamente sì, non solo è un ritorno economico. Chiediamo a chi ci segue perché magari non sa che fondamentalmente ogni prestazione ha un costo e la mobilità passiva è un costo, soprattutto per la regione, è un costo anche per la regione. Assolutamente sì, noi paghiamo tutte le prestazioni fuori regione direttamente alle regioni in cui vengono in grado regata la prestazione. In questo caso rimangono da noi, rimangono in Sicilia e rimangono nella provincia di Trapani, che significa che tutti quei soldi che noi in questo momento stiamo incassando, oltre che a pagare i nostri professionisti, ci aiutano a pagare, ci aiutano a fare investimenti in tecnologia, che è quello che in questo momento stiamo facendo. Stiamo cercando di acquisire le migliori tecnologie. Ora, la prossima settimana, deliberiamo per esempio due risonanze magnetiche l'acquisto. Una andrà a Mazzara, un'altra a Marsale. I due ospedali avranno due risonanze magnetiche da 1,5 Tesla, quindi ottime risonanze che avranno la possibilità di erogare prestazioni nel minor tempo possibile e con una precisione quanto più possibile, ma migliore. Questi sono gli elementi essenziali con i quali noi ci stiamo muovendo in questo momento, ma stiamo facendo di più. Per esempio, sulla parte perché abbiamo abbattuto così tanto le prestazioni ambulatoriali nei nostri, soprattutto poliambulatori, perché avevamo una distonia tra le prestazioni che venivano erogate la mattina, quando i nostri professionisti vengono pagati a ore rispetto a quelle del pomeriggio in cui vengono pagate a singola prestazione, perché vanno a fare i domicili. Abbiamo visto che c'era una distonia tra l'uno e l'altro. Allora abbiamo fatto una riunione, abbiamo messo su un tavolo tutti quelli che erano i professionisti, le rappresentanze sindacali dei professionisti e abbiamo allineato quelle che erano le prestazioni che venivano erogate nel pomeriggio con i tempi della mattina. Questo ci ha dato la possibilità di raddoppiare le prestazioni. Facciamo analisi. Ogni giorno ci chiediamo perché e questo ci dà la possibilità di chiederci come trovare le soluzioni. È uno degli elementi essenziali, la curiosità di quello che si fa, di andare a capire esattamente quali sono i processi e di analizzarli, entrare nel merito degli stessi per cercare di ottimizzarli, ma senza chiedere nulla di straordinario, semplicemente che facciamo il nostro, lo facciamo bene. Adesso che si recuperano le prestazioni, che si ritorna alla normalità, come si fa a evitare che tutto questo ha strutturato da persa, questo circolo virtuoso. Ringraziamo tanto per cominciare il governo regionale perché ci ha dato anche la possibilità di soffrire degli ultimi fondi non solo per abbattere il 2022, ma stiamo utilizzando anche per il 2023. Dobbiamo fare per una cosa, dobbiamo garantire ovviamente che i professionisti vengono a lavorare da noi. In questo momento abbiamo una grande difficoltà che è quella di reperire i medici, soprattutto per le piccole province. Questa è una difficoltà che ha forse a tutto il paese. Nella totalità della nazione, però capite che rispetto alle piccole province, la fanno da padroni sicuramente quelle che sono le città maggiori come Palermo, Catania, Messina, dove l'attrattività sicuramente per i medici è maggiore rispetto a quelle che possono essere nei piccoli presidi come Salemi, Castelvetrano, Mazzara, Alcamo, sono tutti non tanto Trapani perché già Trapani di suo è molto più attrattiva, ma gli altri presidi non lo sono. Pantelleria, considerate per esempio l'isolamento di Pantelleria, su quello stiamo lavorando moltissimo sulla telemedicina perché i professionisti non sempre sono disponibili a spostarsi su un'isola per poter erogare prestazioni. Quindi stiamo lavorando proprio anche sfruttando la tecnologia per cercare di erogare nel miglior modo possibile le prestazioni, cioè gli esami cardiologici, così come gli esami radiografici, vengono effettuate le prestazioni nell'isola, però vengono refertate direttamente in terraferma. Questo ci dà la possibilità di ottimizzare il personale e di ridurre al minimo i disagi ovviamente di coloro i quali abitano a Pantelleria, così come a Favignana o nelle altre isole ovviamente della provincia di Trapani. Diciamo che proprio quelle delle isole sono forse una particolarità della provincia di Trapani, non soltanto perché gli ospedali delle isole sono quelli disagiati. Assolutamente sì, siamo Trapani, Palermo perché a Lampedusa, nel caso specifico, e le Eoli invece che fanno capo all'aspe di Messina sono le tre province che in questo momento gestiscono anche la parte delle isole minori. C'è un grande tema per quanto riguarda le isole, che è quello delle camere iperbariche. Noi non abbiamo problemi perché abbiamo camere iperbariche sia su Pantelleria che su su Favignana. Partono il 15 di maggio e finiscono il 15 di ottobre. Abbiamo i nostri medici che vanno, gli anestesisti che vanno lì, stanno lì H24 anche nei torni di reperibilità e non abbiamo avuto mai problemi legati all'apertura delle camere iperbariche. E questo già è un risultato perché negli anni passati invece si sono registrati i problemi, perché ricordiamo le camere iperbariche sono importanti soprattutto in questi territori perché sono il paradiso dei sub e quindi l'incidente che può capitare, purtroppo è una cosa che bisogna tenere in considerazione chiaramente. Bene, detto questo, abbiamo detto ampliamoci anche a un po' tutto il resto. Abbiamo parlato di quello che si sta facendo, degli investimenti che stanno arrivando. Le chiedevo poco fa come si fa adesso, mi diceva che c'è un problema per i rimedi, ma come si fa adesso a non disperdere questo patrimonio organizzativo quando tutto va a regime normalmente, cioè fra tre anni avremo ancora la possibilità di poter contare i suoi esami in questi tempi? Noi stiamo creando i presupposti perché tutto va da regime, tutto funzioni bene, bisogna stare sul pezzo, il che significa che ogni mese uno deve guardarsi il report dal mese precedente per capire quali sono le azioni correttive che dobbiamo tempestivamente portare a termine e portare avanti proprio per evitare che ci siano problemi, però bisogna stare molto attenti. L'attenzione, i report mensili sono elementi essenziali nella gestione di quello che è l'andamento di un'azienda. In tutti i campi l'indice di occupazione dei posti letto è uno degli elementi essenziali, cioè dobbiamo avere tutti i posti letto occupati e dobbiamo avere una degenza media che sia quella della media nazionale, cioè non può stare lo stesso malato più del tempo che in media ci sta nella media nazionale, se serve sì, ma devono essere casi sporadici, quindi bisogna ottimizzare queste attività, così come quelli degli interventi operatori, devono essere i pazienti ricoverati quando non si tratta dell'emergenza urgenza, il giorno prima fare gli esami, al giorno dopo è erogata la prestazione e poi il tempo strettamente necessario alla degenza per poterli rimandare a casa. Stiamo ottimizzando tutti questi tempi, questi sono tutti gli elementi per i quali potremo mettere a regime quello che è l'elemento dell'erogazione della prestazione nei tempi che la gente si aspetta che la legge ci impone che dobbiamo rispettare. Ma guardando all'immediato futuro, però anche secondo quelle che sono le previsioni del PNRR e quello di cui si parla tanto ormai, si va sempre di più verso una cura domiciliare, verso un nuovo sistema sanitario che prevede anche ospedali di comunità e tante altre strutture completamente diverse concettualmente rispetto a quella che è la sanità che abbiamo pensato fino ad oggi. In questa direzione? La direzione ormai è tracciata, il Ministero e lo Stato in generale ha dato delle indicazioni che rivoluzioneranno completamente quella che è la sanità. Con tempi anche abbastanza stretti per la loro realizzazione. Assolutamente sì, perché noi abbiamo una deadline nella quale dobbiamo realizzare tre tipologie che in questo momento investiranno l'interesse del territorio, quindi si sposta l'attenzione e la cura del paziente non più agli ospedali ma direttamente al territorio, con le case di comunità, ma come ho appena detto, con gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali. Sono tre elementi essenziali che dovremmo realizzare entro il 30 giugno del 2026, dovranno essere già portate al regime, ma non significa che entro quella data… Volevo aggiungere una cosa, però avete anche un obbligo, quello di non fare assunzioni in buona sostanza, dovete utilizzare lo stesso personale di cui disponete. No, in questo momento non è così perché noi, tutte le aziende e quindi anche le regioni sono resi conto che non abbiamo il personale per poter reggere la riforma e in questo momento al Senato, in Commissione Sanità, si sta ragionando proprio e si sta dibattendo di come poter… Si sta ragionando, ancora però non c'è, attualmente i patti che avete firmato, mi risulta così, prevederebbero che non potresti… I patti in primo momento potevano dire questo, però le regioni, ognuna ha raccolto quelle che erano ovviamente le necessità delle singole aziende ospedaliere, delle aziende territoriali come le Aspe che dirigo io e su quello abbiamo dato le indicazioni specifiche di quello che è il personale e quanto ci manca per poter proprio colmare quel gap. Considerate che la rivoluzione sarà copernicana, avremo l'infermiera di famiglia, che è una cosa che non abbiamo mai avuto, che sarà a servizio del medico di medicina generale, quindi il medico di famiglia, avrà un infermiera a qualità delle indicazioni per somministrare le terapie direttamente a casa, oppure se dobbiamo fare la conduzione delle cronicità, i pazienti cronici che rappresentano all'incirca in media il 10% dei nostri ultra 65 anni, dovranno essere eseguite prevalentemente a casa, in ospedale andranno una volta all'anno per una visita, dopodiché tutte le altre attività devono essere svolte in maniera domiciliare, che significa che se devono fare la visita e il controllo elettrocardiografico, sarà il medico, l'infermiere di famiglia che porterà l'elettrocardiografa a casa del paziente, effettuerà la prestazione, la trasmetterà online al cardiologo che si trova o nel territorio o in ospedale, verrà refertata e su quella poi si farà ovviamente una visita da lontano, quindi la vera e propria telemedicina, la televisita è un altro degli elementi essenziali che sarà fatto direttamente tramite ospedale da un lato e dall'altro lato direttamente il paziente, quindi non c'è solo ed esclusivamente ospedale, ormai il territorio avrà una delle figure centrali, sarà proprio quella del territorio. Di queste tre strutture che stiamo dicendo, dove avremo delle case di comunità AB e SPOC, cioè quelle che sono a porte 12 ore al giorno e quelle invece che saranno aperte 24 ore al giorno, il medico sarà sempre presente, l'infermiere sarà sempre presente, anche sabati, domeniche, festivi, quindi non ci si dovrà rivolgere più al pronto soccorso, dobbiamo sgravare i pronti soccorsi di tutte quelle che sono attività che non vanno ricondotte al pronto soccorso, ma queste nuove strutture in maniera tale da decongestionarli e dargli la possibilità di poter lavorare nella gestione di quella che è l'emergenza urgenza, quindi i codici verdi ad alta intensità e i codici rossi. In buona sostanza nel futuro, non tanto lontano, immaginiamo un ospedale che sia completamente dedicato o all'emergenza urgenza o al programmato e poi strutture che sono invece intermedie, che possono essere anche lungo degenza ova necessario quando si tratta di case di comunità in buona sostanza. Nelle case di comunità avremo una degenza che è in media di 30 giorni massimo, nella quale la presenza sanitaria è assicurata solo ed esclusivamente, anzi preeminentemente da infermieri. I medici saranno presenti per 4 ore, 4 ore e mezza la mattina dal lunedì al sabato, dopodiché la gestione sarà di tipo infermieristica, quindi considerate che tutte le dimissioni che devono essere fatte domiciliarmente e che in questo momento non vengono fatte perché non ci sono strutture intermedie, potranno essere fatte dagli ospedali presso gli ospedali di comunità, lì ci sarà un'istruzione, quindi si seguirà il paziente fino a quando potrà essere portato a casa e si addestreranno i caregiver anche a somministrare quelle che sono le tera vie direttamente in ambito domicilio. Una domanda velocissima perché il tempo è finito, ce la faremo per il 2026. Assolutamente sì. Allora grazie a Vincenzo Spera, commissario straordinario dell'ASPA di Trapani, grazie a voi per averci seguito, chiaramente continueremo a parlarne nei prossimi giorni. Arrivederci a tutti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS